Altro video di giornata, sempre buongiorno a tutti i belli e brutti, altro video di giornata o me dalla location, dalla solita location, perché vengo qui? Perché è una stradina tranquilla, c'è poca gente che rompe le palle, vengo qui la mattina presto, sempre la solita stradina vicino al lavoro, faccio i video, poi vado, no? Allora, 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 intanto iscrivetevi al canale ragazzi, fatemi un favore, chi vuole bene Michelone, guardate ragazzi, vi ho detto che devo vincere la scommessa, a fine stagione devo arrivare a 1000 iscritti, non fate cagate ragazzi, non fatemi perdere la scommessa, perché non ho voglia di poggiare, di pagare pizza, birra, non ho coglioni, quindi iscrivetevi al canale e la campanellina, la campanellina delle notifiche, se no non vi arriva la notifica, poi voi non guardate il video, io non faccio visualizzazioni e poi mi incazzo, scherzo, scherzo ragazzi, dai, iscrivetevi al canale e alla campanellina. Allora, qui torniamo a parlare del polpo, quando questo giocatore qui l'hanno preso, ah, questi qui sommati, sommati, sommati perché uno che è stato fuori, allora, 100 partite in tre anni mi pare, una roba del genere, questo qui al Manchester ha saltato 100 partite in tre anni, vuol dire che fisicamente era già di studio, poi questo qui ha anche problemi di testa, questo ragazzo qui ha problemi, questo con la testa è andato, è andato, quello lì tra Santoni, rapperia, rapper lì, i balli, lui le sue cagate che fa, poi problemi lì con la famiglia, questo qui è andato con la testa, non è a bolla, non è a bolla, ma il fenomeno lì, il deficiente lì che è scappato in Olanda, lì siccome ha perso il brand di Ronaldo doveva fare qualcos'altro, chi si è andato a prendere, uno distrutto, distrutto, e riguardavo due video, perché ci arrivano dopo questi qua, ci arrivano dopo e hanno detto che questo non regge, non regge proprio gli allenamenti, non è che è rotto questo qua, non è che è rotto, è proprio finito, finito, e non sanno come sbolognarselo, come mandarlo via di fatti, e sono molto allibiti, questo giocatore che non ne viene fuori, non ne viene fuori, addirittura dicono che gli allenamenti, non è che non si allena, che è rotto fisicamente, proprio non regge, non regge, sapete la paura, la paura di quando non ci sei con la testa, pensate, vi faccio un esempio, voi siete a lavorare, fate un lavoro un po' diciamo anche da stare attenti, se no vi fate male, quando avete dei problemi di testa, che avete magari non so, un familiare che sta male, non so, il vostro cane che non sta bene, che siete lì con la testa, non lavorate bene, anzi, c'è anche qualche problema che vi facciate anche male, quindi ragazzi, quando non ci sei con la testa, non ci sei neanche col fisico, e questo è ormai andato, ormai è andato, anche come dicono i soloni, ma io credo, credo a quello che vedo, stanno cercando di mandarlo fuori dalle balle, stanno in tutte le maniere parlando con, questo dicono, con gli arabi, perché lì non è che è un campionato, un campionato di quelli strong come ci sono magari in Italia, in Inghilterra, sono campionati più blandi e allora magari il fisico lì può anche reggere, puoi anche giocare un po' in scioltezza, insomma stanno cercando di sbolognarlo in Arabia, in Arabia. A me anche dispiace un po', perché un Pogba ha il 60%, ragazzi, altro che i miretti, i fagioli, i locatelli, no? Un Pogba ha il 60%, ma anche il 50%, ragazzi, ma anche si vedeva quando entrava quella mezz'oretta, quei 10 minuti, la squadra era tutta un'altra. Per quel giocatore mi dispiace, perché quello lì sarebbe stato, come dico, il fiore all'occhiello, avrebbe fatto girare la squadra, ragazzi. Però quando non hai testa, quando non hai testa, qui parlo di società, quando sei un pazzoide, quando ti bevi il cervello, che cerchi di fare le cose più grandi di te, ma poi anche dico, ma con tutti i macchinari, questo qui è arrivato si è rotto. Con tutti i macchinari che ci sono adesso, che ti controllano, che il pelo del culo vedono, vedono se anche il pelo del culo, se ha qualcosa che non va, lo beccano. E non lo so, porca miseria. O che l'hanno preso, come per dire, abbiamo questo appunto per il brand, e del gioco non gliene fregava un cazzo, però andare a pagare. Questo qui ha preso 10 milioni in un anno senza fare un cazzo. Questo qui ha preso 10 milioni, adesso io non lo so perché non aveva bonus, mi pare che si parlava di stipendio netto. Dai 8 ai 10 milioni, adesso non mi ricordo proprio esattamente lo stipendio di Pouba, netto in un anno senza fare un cazzo. Questo qui ha giocato, che ha giocato in tutto l'anno? Una partita? Sommando i minuti. Ma roba allucinante, ma roba, quanti soldi buttati via, ma quanti soldi buttati via. E insomma ragazzi, questo è un giocatore finito, 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 finito. Speriamo che il grande Giuntoli, che si è tirato fuori dai coglioni lì, Bonucci e McCannis, speriamo che riesca a mandare fuori dalle palle anche questo, perché bisogna ragazzi, come vi dico sempre, fare un'epurazione totale. Qui c'è da mandare via tanta di quella gente, ragazzi, che ci saranno in tutto un 15 giocatori tra giovani e vecchi e quelli che ci sono adesso a mezza età. Ci saranno un 15 giocatori da mandare fuori dai coglioni. E a me quello che preoccupa di più, come vi dicevo, è Arthur. Quello, ma a bilancio c'è ancora mi pare un 50 milioni. E chi te li dà 50 milioni per quel cesso lì? Perché quello è un cesso. Il Sergio dice che è un campione. Il brasiliano giocava col Barcellona, sì di fatto il Barcellona se l'ha tirato fuori dalle palle. Ogni tanto prende un colpo di sole anche il Sergio, ma boh, capita a tutti. Però, chi te li dà 50 milioni per quello là? Sì, boh, dice, hai fatto lo scambio, piani, c'è quell'altro, sì. Però a bilancio sono 50 milioni. Questo qua ancora per due anni ce l'è nel gruppone. Poi c'è di nuovo, vi ripeto, piazza. È lo stesso Zaccaria che mi piange il cuore. Ma ce ne sono, ragazzi, De Cilio, Rugani, Alexandro. C'è una lista, poi anche su l'è, ma perché su l'è devono venderlo su l'è? Io capisco che 20 milioni per un giovane sono di fangola, ma io preferisco cedere un a che? Ma non su l'è. Ma si vede che il porco lì in panchina, perché secondo me parte tutto dal porco, eh? Secondo me il porco in panchina la vede in una certa maniera. Comunque, tornando al polpo, il giocatore finito, ultra finito, mentalmente, fisicamente, e tutto quanto. Un bacione a tutti, belli e brutti. Iscrivetevi al canale, come dico, campanellina, mi raccomando, mi raccomando, ragazzi, eh? E ci vediamo alla prossima. Grazie.